Eccoci qua. Mark, stai registrando? Sì, vai. Allora, che ci racconti, Matteo? Ciao, ragazzi. Stiamo andando in aeroporto a prendere due ospiti veramente eccezionali. Rudy Taburi, Woody e Buzz Lightyear. Esatto, i mitici protagonisti di Toy Story 3. Ma prima vogliamo farvi vedere un'anteprima del film. Mark, vai con la clip. Wow, sì, eccola qui. Nuovi giocattoli! Lo sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato... Ma non adesso! Mi stanno arrivando qui perché dovranno aiutarmi in un compito veramente importante. Infatti saranno la mia guida per doppiare Andy in Toy Story 3. Sì, sarò la voce italiana del proprietario dei giocattoli. E non vedo l'ora di conoscerli. Guarda. Eccoci qui. Stiamo documentando un momento storico. Dove sono finiti? Ma... Woody e Buzz? Woody? Buzz? Non ci sono. Dove sono finiti? Ma quindi si sono persi? No, si sono persi Woody e Buzz. Dove sono Woody e Buzz? Dove sono? Non lo sa. Woody e Buzz? Hai visto Woody e Buzz? Sì, ma sono. Hai visto Woody e Buzz? Hai visto Woody e Buzz? No, non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. tre sono scomparsi. In occasione dell'uscita del film Matteo voce italiana di Andy era pronto ad accoglierli nella loro trasferta italiana ma ora la sua missione è diventata un'altra ritrovare Woody e Buzz. Ok Mark sta registrando sei pronto? Aspetta solo un attimo che inserisco l'ultimo algoritmo. Dai su dobbiamo sbrigarci non abbiamo molto tempo da perdere se vogliamo trovarli. Lo so lo so ma guarda che non sono proprio il secchione che interpreto di solito. Eh già e poi questa è fisica quantistica. Allora inserisco l'ultima sequenza. Sì anch'io contro il C contro il V. Messaggi in codice per Woody e Buzz. Ci sentite? Siamo l'agenzia segreta del ritrovamento dei giocattoli perduti. Abbiamo le vostre confinante quindi abbiamo bisogno di nuovi elementi per capire la vostra posizione. Abbiamo creato un super sito dove potrete connettervi e inviarci le vostre coordinate. Il nostro mega cervellone elaborerà tutti i dati e le informazioni per potervi trovare il più presto. Woody, Buzz, dateci un segnale e vi riporteremo a casa. Agente a casa abbiamo bisogno del vostro aiuto per ritrovare Woody e Buzz. Esatto seguite gli indizi che vi verranno dati da settimana prossima per scoprire dove sono finiti Woody e Buzz. Su Disney Channel.it troverete gli indizi e le tracce per scoprire in quale città sono finiti Woody e Buzz. E colui che riuscirà nell'impresa potrà partecipare alla grande anteprima italiana di Toy Story 3. Il primo luglio a Roma. Esatto. Dai Matteo, cominciamo la ricerca. Contro l'alcancio. Lost Toys. La ricerca di Woody e Buzz sta per cominciare. Accendi il tuo fiuto da detective e scopri dove sono finiti Woody e Buzz. La missione nelle tue mani. Lost Toys. Solo a Disney Channel. E adesso arriva un imperdibile episodio di Life Bites.